Quindi è il DNA? Sì sì è una cosa di famiglia, noi siamo molto colorati in famiglia sotto questo punto di vista. Ma perché pensi che le persone si avvicinino a te per interesse tipo lei è famosa c'è i follower, andiamo? Momento appunto denso di impegni perché in primi sia solo una che non si ferma mai e si cerca sempre l'opportunità. Essendo che è un momento storico dove non è che proprio pullano i post in televisioni ed essendo che io ho un forte ascendente, una forte passione nel settore televisivo penso che il podcast sia un buon compromesso tra televisione e digitale. È un mio spazio, l'abbiamo carato noi, è una scommessa investiamo noi in prima persona e sta andando molto bene, sono felicissima. È un nuovo modo anche per me di interagire, di comunicare, di mettermi alla prova. Oltre che intervistare mi metto letteralmente in ascolto faccio un passo indietro e secondo me sta uscendo anche una mia versione inelita e sono davvero felice di questo. Allora ovviamente speravamo di entrare in classifica soprattutto nei top 3 e arrivarci in sole tre settimane ci ha sconvolto tutti quanti perché fin da subito siamo entrati in top ten. Poi abbiamo iniziato a salire sei, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre e poi abbiamo mantenuto il primo posto per svariati giorni e eravamo tutti increduli, felicissimi perché era la speranza, perché veramente il podcast è un mercato già saturo, è pieno, murato di podcast, riuscire a portare un prodotto di qualità, di sostanza, quindi non un prodotto magari più leggerino e amatoriale. C'è uno studio, c'è uno studio, c'è un team, ci sono degli autori, c'è un ufficio stampa, ci sono diversi cameraman, c'è una regia, c'è proprio è come un programma televisivo a tutti gli effetti, quindi uno può fare il podcast in maniere diverse e tutte quante sono ovviamente rispettabili e quindi in maniera più o meno anche costosa noi abbiamo voluto veramente mettere la creme della creme, il meglio di tutto e devo dire che avere avuto questo feedback da parte del pubblico è stato veramente bellissimo, inaspettato, non scontato e soprattutto si percepisce evidentemente il lavoro e l'impegno che c'è, perché io sono una perfezionista, qualsiasi cosa per me deve essere curata nei minimi particolari, quindi anche la scelta dell'ospite, siamo andati a cercare tutte persone molto diverse tra di loro e sono felice, sono come una bambina in questo momento. Di base abbiamo iniziato a lavorare diversi mesi fa, prima sul contenuto, quindi di cosa vogliamo parlare e da diciamo un brainstorming generale è uscito disagio generazionale, tant'è vero che inizialmente volevamo chiamarlo disagio.com ma poi sembrava quasi che sminuisse quello che realmente sono i disagi, perché poi penso che tutti quanti noi, chi più chi meno, chi ci segue, chi ha un tipo di disagio, chi ne ha un altro e quindi io ho detto non va proprio bene. Poi è uscito questo titolo durante un'intervista con una giornalista che non lo faccio per moda, perché io spiegandoli che non lo facevo per moda ma per un'esigenza personale, lei mi ha detto ah bello il tuo podcast che si chiama Non lo faccio per moda, da lì tutti campanellina wow bellissimo usiamo questo come titolo. Quindi volevamo il salotto, la comodità per la persona e non il personaggio, la parità tra intervistatore e intervistato, la chiacchiera, volevamo dei temi concreti, dei temi che toccano tutti, quindi appunto il disagio, ascese e discese, passaggi di vita, momenti di up e di down, volevamo la verità, cercavamo la sostanza, in un momento della mia vita dove cerco tanta sostanza e penso che questo podcast per me rappresenti sostanza. Io ho un autore col quale prepariamo diciamo i macro punti che non sono propriamente delle domande, noi proviamo a buttare giù una scaletta, ma io vado estremamente a braccio, cerco di capire ogni ospite che cosa può dare al pubblico, perché oltre che a me deve dare al pubblico, per quello io dico è bello che uno faccia un podcast senza intenzione di darsi, cioè ok va bene il politicamente corretto, ok che in questo momento nessuno vuole prendere posizioni, ma è bello se uno le prende, se un minimo si dà, quindi ovviamente le puntate più belle sono sempre quelle dove l'ospite si mette più in gioco. Io non obbligo nessuno, non è una intervista incalzante, non sono una giornalista d'inchiesta, non metto con le spalle al muro il mio ospite, anzi io ti metto nella condizione di poter scegliere di raccontarti a chi ci guarda, di essere sincero o di rimanere neutrale, quindi c'è chi è stato magari più neutrale, c'è stato chi si è dato molto di più, chi meno, chi ha preso posizioni anche toste, chi ha raccontato parti intime della propria vita, della propria infanzia, la sofferenza, al bullismo, ascese, discese, cadute, pianti, giudizi, quindi è bello perché ognuno di loro in un qualche modo ha dato un pezzo di sé e vedrete anche le prossime puntate, insomma spero che sia solo l'inizio di un lungo progetto. Dalle prossime puntate aspettatevi insomma rivelazioni shock. Chiedo sempre a tutti consigliatemi se vi piacerebbe vedere qualche persona in particolare o trattare qualche tematica, sapete che io vi leggo, quindi commentate scrivete. Qualcuno che si è rivelato antipatico? No, nessuno, no, no, fortunatamente no, anche perché vieni a casa mia, ti coccogliamo, ti coccogliamo, cioè chi viene sa che non è messo in difficoltà, quindi mi è capitato, non dico chi, che qualcuno chiedesse di tagliare qualcosa, un paio di persone, però vabbè ci sta nel senso. Uno dei commenti che mi arrivano più spesso quando posto cose due insomma è il complimento legato al fatto che sai mettere a proprio agio l'ospite, cioè hai questa colloquialità per cui l'informalità forse anche del contesto e il tuo modo di approcciare l'altro mette estremamente a proprio agio, quindi da lì la chiacchiera diventa quasi amicale, quindi ti chiedo se questa attenzione all'altro, questa apertura, accoglienza all'altro è qualcosa sul cui hai lavorato e che hai sempre avuto anche da bambina, da ragazzina. Ma non lo so, in realtà sono felicissima che mi dici questo, quindi grazie è proprio il mio obiettivo, noi volevamo persone e amici e amiche che si potessero sentire a loro agio perché io in primis mi rendo conto che mi apro quando mi sento a mio agio e quindi cerco sempre di riflettere quello che vorrei fosse il trattamento riservato nei miei confronti. Da piccola io ero forse un po' più timida, però sono sempre stata una bambina molto curiosa e molto socievole, anzi sono sempre stata più alla ricerca di amicizie e quindi cercavo di fare qualsiasi cosa per farmi voler bene e quindi questa cosa forse dell'accettazione mi porta oggi ad essere magari molto aperta e amorevole, socievole nei confronti dei miei ospiti, però è una cosa innata penso, quindi sono felice, dai ho altri difetti, questo è un mio pregio. Mi mette a disagio la superficialità, la falsità, la cattiveria, io divento pazza quando vedo le ingiustizie, quando vedo persone, succede spesso in questo settore trattare male altre persone, cioè il momento di nervosismo ci può stare e ce lo posso avere anche io, poi magari se sbaglio i toni posso chiedere scusa, ma la cattiveria gratuita, verbale che viene utilizzata spesso da persone che lavorano in questo settore verso altri, collaboratori, parenti eccetera, mi manda al creatore, cioè io divento pazza. Ma io non mi definisco, io mi reputo un personaggio un po' 2.0, nel senso un ibrido tra televisione, digitale, ho fatto anche la radio, quindi un po' di tutto, io sono una persona che cerca molto l'opportunità, nel senso che la vita è stata generosa a volte, più tirchia in altre volte, quindi in generale nelle volte in cui è stata un po' più restia nel darmi, sono una che va a cercarsi la nuova crescita o un nuovo stimolo e il podcast sicuramente uno di questi, quindi non che non avessi cose da fare in agenda, anzi però per me era un'importante opportunità di crescita anche umana, lavorativa, mi permette anche di far conoscere alle persone, le addette ai lavori, al pubblico in un modo diverso e con una chiave diversa, forse anche più matura rispetto alla Giulia del passato. E che cosa ti dite nella scelta di un progetto, quando dici sposo a questo progetto, a un brand? Allora, sicuramente il brand deve rispecchiare i miei valori e i miei principi, deve essere un brand il quale credo che realmente utilizzo, io amo il mondo del make up, deve essere un prodotto di qualità, non mi vedrete mai sponsorizzare un prodotto scadente che fa irritare gli occhi quando lo applichi, quindi sono molto attenta e ho anche un team che filtra già per me, quindi neanche mi arrivano quelle determinate proposte. Dal punto di vista televisivo, fortunatamente rispetto al passato, non ho più quell'esigenza di dover a tutti i costi accettare tutto pur di farmi conoscere, pur di avere un'opportunità di esistere, perché ho capito che a volte è un'arma a doppio taglio, quindi magari tutte quelle volte in cui serve un ruolo più da, non so come dire, un po' più leggero, eccetera, che ho fatto anche in passato, però non mi reputo una ragazza stupida e quando magari te lo richiede il contesto televisivo e quindi tu devi fare un po' più quella parte lì, ma magari non lo sai e poi leggi i commenti che comunque ti feriscono, allora dici quanto il gioco vale la candela e quindi fortunatamente dopo dieci anni posso vivere e stare bene anche non facendo niente, quindi preferisco piuttosto fare un podcast che lo costruiamo noi su misura, che c'è della sostanza, c'è studio, c'è un team, ci sono belli ospiti, ci sono belle domande e quindi che comunque sta andando anche bene, che porta un nuovo pubblico, un nuovo tipo di anche spettatori, sia video su YouTube che audio su Spotify, quindi sì, è una fase di crescita, è normale che io amo la televisione, quindi cosa sogno? Io sogno di essere una conduttrice a tutti gli effetti. Chi lo sa? A me piacerebbe tutto quello che riguarda provare esperienze nuove, mi affascina molto il mondo del cinema e delle serie, penso anche che si siano creati nuovi posti, vedo sempre più ragazzi che lavorano sul digitale, che però lavorano nelle serie, che lavorano nelle fiction e nei film, quindi mi piace questo mondo che si sta un po' contaminando l'uno con l'altro. Ho fatto un piccolo cameo dove faccio me stessa, quindi io faccio Giulia Salemi, Achille Lauro fa Achille Lauro, siamo a un party, è un breve cameo, però è stato divertente. Apprezzo molto gli attori perché i tempi sono incredibili, cioè magari una scena la ripeti 700 volte, invece la televisione ha quella magari dinamicità, cioè il mio podcast è buono alla prima, fine, quindi devi avere quella prontezza, quella battuta pronta, quella preparazione che bam vai e spesso la tv sia in diretta che anche a volte registrata è così, quindi stimo tantissimo la loro pazienza di rifare, 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 tant'è vero che si dice che il cinema è attesa, però si sa mai, un giorno mi divertirebbe fare qualcosa anche con qualche particina in più. Questa estate come sarà? Non ne ho idea, guarda in questo momento sono in bolla lavorativa, sia io che Pierpaolo, quindi ci sarà tempo, a giugno inizieremo a ragionarci. Grazie Giulia. Grazie mille. Grazie. Grazie.